Quando esce un buon romanzo, un bel romanzo, bisogna fare festa, perché non capita sempre. Capita certamente con questo ultimo, nuovissimo romanzo di Alessandro Piperno, che si intitola di chi è la colpa, edito da Mondadori. Un romanzo vero, un romanzo mondo, potrei commentarlo, un romanzo che non è di facilissimo approccio, ma ti entra nelle vene, dietro ogni pagina vuoi andare avanti, aspetti la pagina seguente, nello stesso tempo ti soffermi su certe incursioni di forza, di sintesi. La storia, la trama è molto complessa, la lascio al lettore, do un breve cenno di contesto. Siamo a Roma, un ragazzino, figlio di un papà che non porta a casa molti soldi, fa fatica a trovare un lavoro che papà creda adatto a se stesso, per intanto 20 elettrodomestici e porta a casa pochi soldi, insomma un po' stravagante. La mamma invece è più seriosa, insegnante di matematica, non è nemmeno molto contenta di questo marito che porta a casa pochi soldi. Il ragazzo ha affetto per i due genitori, ma ha un rapporto strano un po' con entrambi, sente qualche stranezza, soprattutto in un non detto della madre che sembra nascondere qualcosa delle sue origini e presto il ragazzo scopre che la madre ha un'appartenenza familiare ebraica, anche se non sapeva di questa sua famiglia con cui sembrava aver tagliato i punti, invece poi non li taglia del tutto. E quindi c'è questa scoperta di questa doppia natura d'appartenenza e il ragazzo deve fare i conti con questo, con questa dicotomia e poi con delle crisi che intervengono, con anche un fatto che può essere anche un po' drammatico. Lo sfondo è quello anche di una società ebraica italiana, ma non si dice che tutta l'ebraicità italiana sia così, ma questa borghesia romana ebraica è un po' così, che da una parte non può perderla a memoria di ciò che successe, i loro padri, i loro nonni hanno vissuto la persecuzione razziale, la Shoah, questa tragedia, ma nello stesso tempo vorrebbero adesso integrarsi, finire di essere additati come sempre un po' diversi, entrare davvero nelle pieghe della società generalista e questo conflitto non è del tutto risolto sempre. Ci sono dei personaggi eccezionalmente descritti, cito uno, la figura dello zio Gianni, un grand'uomo, bello, fascinante, ricchissimo, generoso, ma anche puntiglioso, qua e là generoso e meschino, insomma esibizionista, ambiguo, una figura tratteggiata con grande forza, oppure Francesca, la cugina di famiglia ebrea, questa ragazza che invece vuole essere coerente in una sua appartenenza e quindi è difficile amarla anche se si vuole amarla, insomma, ma non dico di più. Io posso soltanto dire che questa storia molto complessa è scritta benissimo. La scrittura è come una polpa densa, c'è un'intensità che è anche tensione, è una scrittura che ha dentro anche il ritmo di una musicalità, una ricchezza di frasi, c'è una snellezza, una speditezza, ma c'è anche una densità in certi approfondimenti, giudizi, sintesi e tutto si mescola, il privato, il pubblico, un po' di storia, un po' di turbamento adolescenziale, un certo mondo di borghesia estenuata, un po' di accessi, un po' di droga, un po' di alcol, un po' di sesso, un po' di delusione, un po' di infelicità o felicità rincorsa, ma è la forza di scrittura che fa di Alessandro Piperno, un vero scrittore italiano che adesso è in libreria con il suo nuovo romanzo di Che è la colpa, edito da Mondadori.